Troppo gentile? Scopri come impostare limiti efficaci. Trovare scuse per gli altri può sembrare un atto di gentilezza, ma in realtà ci impedisce di vedere le situazioni per quello che sono veramente. Iniziare a valutare obiettivamente significa liberarsi dal peso di giustificare comportamenti altrui, acquisendo così una maggiore chiarezza nelle relazioni. Sentirsi in colpa per aver detto no è un sentimento comune, ma riconoscere il proprio diritto di rifiutare è fondamentale per la propria salute mentale. Ricorda che dire no non ti rende egoista, anzi, è un segno di rispetto verso te stesso e le tue esigenze. Esprimere le proprie esigenze può sembrare difficile, ma è essenziale per costruire relazioni sane. Inizia con piccoli passi, esprimendo i tuoi desideri in modo chiaro e diretto. Vedrai che comunicare efficacemente ti porterà rispetto e comprensione da parte degli altri. Sentire la responsabilità delle emozioni altrui è un carico pesante da portare. Imparare a distinguere tra empatia e sovraccarico emotivo ti aiuterà a prenderti cura di te stesso, mantenendo al contempo la capacità di essere sensibile alle esigenze degli altri senza esserne sopraffatto. Ignorare i propri limiti per compiacere gli altri è un percorso insostenibile a lungo termine. Riconoscere e rispettare i propri bisogni non solo è fondamentale per la propria felicità, ma è anche il primo passo per costruire relazioni autentiche e reciprocamente soddisfacenti. Sviluppare fiducia in se stessi e assertività è un viaggio che inizia con piccoli passi. Ricorda che ogni decisione assertiva che prendi è un mattone in più nel muro della tua autostima. Inizia con scelte quotidiane, ascoltando la tua voce interiore e rispettando i tuoi veri desideri. Questo percorso ti porterà a scoprire la forza che già risiede in te. Essere il punto di riferimento per tutti può sembrare gratificante, ma è fondamentale trovare un equilibrio. Dedicare tempo a se stessi è tanto importante quanto aiutare gli altri. Stabilisci dei limiti sani, permettendoti di ricaricare le tue energie. Solo così potrai essere davvero d'aiuto senza esaurirti. Ricevere continue richieste senza un ringraziamento può lasciarti svuotato. È importante valutare quanto il tuo tempo e il tuo impegno vengano apprezzati. Imparare a dire no è un segno di rispetto verso te stesso e il tuo tempo prezioso. Ricorda che il tuo valore non dipende dall'approvazione altrui. Affrontare il conflitto può sembrare intimidatorio, ma è essenziale per costruire relazioni sane. Vedilo come un'opportunità per crescere e capirsi meglio. Approccia i disaccordi con apertura e onestà, cercando un terreno comune. Questo ti permetterà di navigare le acque turbolente con maggiore serenità. Sentirsi sfruttati in una relazione è un campanello d'allarme che non va ignorato. Ascolta i tuoi sentimenti e riconosci i segnali. Avere il coraggio di porre fine a dinamiche tossiche è un atto di amore verso te stesso. Ricorda, meriti relazioni che ti arricchiscano, non che ti svuotino. Dire no non significa essere insensibili, ma rispettare i propri limiti. Esprimere un rifiuto con gentilezza, come sono onorato dalla tua richiesta ma purtroppo non posso, trasmette considerazione sia per se stessi che per gli altri. È un equilibrio tra autostima e rispetto reciproco. Accettare che non possiamo piacere a tutti è liberatorio. Questa consapevolezza ci invita a vivere autenticamente, seguendo i nostri valori e desideri. La delusione altrui, sebbene difficile, è meno gravosa quando siamo in pace con le nostre scelte. Metterci al primo posto non è egoismo, è necessario. Priorizzare le proprie esigenze ci permette di ricaricarci e di essere più presenti per gli altri. È il fondamento per una vita equilibrata e piena di significato. Ritagliarsi spazi personali è essenziale per il benessere. Dedicare tempo a se stessi, ai propri hobby o al semplice riposo è un atto di cura personale. Questi momenti sono non solo un diritto, ma una necessità per mantenere una mente sana. Sentirsi responsabili per il successo altrui può essere soffocante. È importante riconoscere i propri obiettivi e dedicare energia a questi. Distaccarsi non significa non curarsi, ma capire che ognuno è artefice del proprio percorso. Evitare i conflitti a tutti i costi può sembrare la via più semplice, ma in realtà impedisce la crescita personale e relazionale. Affrontare i disaccordi con coraggio e apertura può trasformare le relazioni, rendendole più sincere e profonde. Imparare a stabilire limiti orari non è solo una questione di organizzazione, ma un atto di amore verso se stessi. Riconoscere e rispettare i propri bisogni di riposo e tempo libero è fondamentale per mantenere un equilibrio sano nella vita. Riconoscere quando una relazione è diventata a senso unico è doloroso, ma necessario. Liberarsi da legami che drenano le nostre energie permette di aprirsi a relazioni più ricche e reciprocamente soddisfacenti, dove dare e ricevere sono in equilibrio. Dare senza aspettarsi nulla in cambio è una qualità nobile, ma trovare un equilibrio è essenziale. È importante ricordarsi che ogni relazione dovrebbe essere basata sul dare e ricevere, così da non esaurire le proprie risorse emotive e fisiche. Sentirsi sovraccaricati ma incapaci di chiedere aiuto è un circolo vizioso che può essere spezzato. Riconoscere il proprio limite e chiedere supporto non è un segno di debolezza, ma di forza e consapevolezza di sé. Rompere il ciclo significa aprirsi a una vita più bilanciata e soddisfacente. Dedicare del tempo a se stessi non è un lusso, ma una necessità. Ricorda che prendersi cura della propria persona non equivale a essere egoisti, ma a rispettare il proprio benessere. Goditi ogni momento speso per te, senza sensi di colpa. È il segreto per una vita più felice e soddisfacente. Avere il coraggio di imporre limiti è fondamentale per il proprio equilibrio. Non temere di essere percepito come scortese. Stabilire confini chiari è segno di rispetto verso se stessi e gli altri. Essere fermi, ma gentili, consente di vivere relazioni più sane e autentiche.